buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fanu tv oggi è lunedì 22 luglio 2024 iniziamo insieme una nuova settimana con la lettura dei giornali è il modo migliore per iniziare anche la giornata così essere così aggiornati per le notizie del giorno in modo particolare lunedì interessante perché c'è stato il weekend nel weekend capitano veramente tante tante cose le vedremo poi con la lettura dei giornali intanto passiamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia nella giornata di oggi eccola una santa molto famosa e santa maria maddalena una delle discepoli anzi forse una delle più famose discepoli di gesù di santa maria su santa maria maddalena se ne sono veramente dette tante sono scritte opere si sono fatti dipinti si sono così allestiti anche delle opere cinematografiche però insomma la vera natura di maria maddalena è quella del vangelo insomma quella che ci viene tramandata tramandata dagli evangelisti ebbene era di certo di magdala una delle città sulla costa orientale del lago di tiberiade fu una delle discepoli durante la sua vita durante la sua gioventù condusse un'esistenza un po' travagliata un po' sopra le righe era era una peccatrice diciamola come la sta ma con l'incontro con gesù è cambiata radicalmente è cambiata radicalmente tanto da diventare una delle sue discepoli discepoli predilette fu una delle prime a vedere gesù risorto e questo veramente è un evento che contrassegnò tutta la sua vita dopo la morte di gesù fu perseguitata fu abbandonata in una nave che fu così lasciata nel mediterraneo approdò a marsiglio in francia e lì condusse la sua vita fino alla morte abitava in una grotta in una spelonca ma la sua presenza in francia fu anche qui è un assegno per quanto riguarda un culto a lei dedicato che dura ancora oggi santa maria maddalena ed ora passiamo alle previsioni del tempo e sembra che il tempo si stia cambiando rispetto alla canicola rispetto al caldo opprimente umido che era che ha caratterizzato i giorni scorsi a tratto instabile oggi il tempo specie nei settori settentrionali e appenninici delle Marche con locali rovesci temporaleschi forse pioverà anche nella giornata di oggi i venti speneranno da est e nord est con una tensione debole da sud per quanto riguarda la costa e da sempre da sud per quanto riguarda l'entroterra ma in generale abbiamo questa direzione da est nord est il mare è calmo le temperature 25 la minima 31 la massima ed ora apriamo i giornali anzi posso dirvi che il sole è sorto alle 5 45 e tramonterà alle 20 e 43 apriamo i giornali oggi a partire dalla prima pagina del resto del carlino dove vediamo il sunto delle notizie di tutta la regione Marche noi iniziamo dalla provincia di pesaro urbino dove la notizia che viene evidenziata con più importanza è quella della morte di baronciani un mito dell'industria aveva le moto nel cuore portò merloni alla benelli si è spento all'età di 87 anni ha cominciato con una ditta di imballaggi vedremo poi gli approfondimenti nell'interno e poi abbiamo un'intervista all'ex consigliere santini per quanto riguarda due associazioni opera di cui una è opera maestra l'ho suggerita lavora bene ha dichiarato in questo caso si parla del paglio dei braceri dove sono sorte delle polemiche per il ritiro del finanziamento comunale che è stato così deciso dal sindaco Biancani e per quanto riguarda la viabilità a Fano si è lagata una strada via brigata Messina ieri si è rotto l'acquedotto cittadino un fiume d'acqua e di fango ha invaso la strada e purtroppo ha invaso anche i semi interrati delle abitazioni vicine vediamo le altre province Ancona ad Ancona sorge un SOS per quanto riguarda lo stato precario del mare nei pressi della battigia mucillaggini e anche la falesia che si sbriciola e cade in mare una tragedia in montagna è morto il maestro Guaiana è stato ucciso da un malore mentre era in bicicletta con la moglie e poi una bellissima fotografia ve la mostrerò in seguito con un aspetto più ampio ma la vediamo qui in piccolo è una foto che ritrae la via Lattea che scarsamente si vede nel nostro nel nostro territorio per via della luminosità che ormai inquina la visibilità del cielo notturno ma in questa fotografia è stata ritratta in tutto il suo splendore e la vedremo successivamente vediamo la provincia di Macerata un paese in lacrime e quello di Monte Cassiano per i funerali di un ragazzino di 14 anni l'addio a Nicolò palloncini bianchi che volano verso il cielo e qui abbiamo la foto notizia da Porto Recanati emerge una furiosa rissa non tra giovani ma tra ragazze e calci e pugni in un locale lo sferisterio lo sferisterio in questi giorni lo sferisterio in Macerata propone delle opere bellissime è andata in scena la Turandotte e Gavazzini promuove i deputanti di norma dopo l'opera di Puccini abbiamo quella di Donizzetti Ascoli è fermo un bonifico di mille euro per aiutare mio figlio una tabaccaia sventa una truffa a Lido Trearchi chiesto il processo 13 imputati dopo il blitz e poi vediamo il paglio di la Quintana di Ascoli Piceno tenzone argente a bilancio positivo per i sestrieri Ascolani questo è un po' il sunto di quello che ci propongono i giornali questa mattina a livello regionale allora apriamo la pagina e diamo un'occhiata alla pagina di Pesaro addio a Cicco Baronciani aveva 86 anni un imprenditore con le moto nel cuore aveva la passione delle moto ha scritto la storia industriale di Pesaro non era semplicemente una passione così voluttuaria per cavalcare la moto e andare via no no lui delle moto ha fatto un'impresa economica iniziò con gli imballaggi però nel 1972 poi portò Merloni alla Benelli e la figlia Alessandra disse oggi un uomo coraggioso ebbene diamo un'occhiata aveva vissuto grandi gioie sportive come due titoli italiani in sella alla MV Augusta e poi la passione per le corse aveva procurato anche atroci sofferenze pensate che a 22 anni nel circuito cittadino di Gallarate perse l'arto sinistro venne poi assunto dalla Benelli nel reparto ricambi prima di diventare un imprenditore Cicco Baronciani ha scritto alcune importanti pagine della storia industriale della città di Pesaro come fu proprio per la Benelli fu lui nel 1985 molto amico dell'allora giovanissimo Andrea Merloni a portare a Pesaro l'importante famiglia fabrianese che poi contribuì decisamente alla economia della città è uno di quegli imprenditori illuminati che da solo ha dato un'impronta decisa per quanto riguarda l'economia di tutta la città e quindi oggi lo si piange anche per la perdita di un uomo importante. L'altra pagina è invece dedicata appunto anche al paglio dei braceri ma vediamo esattamente di che cosa si tratta. La prima pagina è una intervista di Roberto Damiani e Antonella Marchionni a Santini e Stefano Esposto. Santini è opera maestra è vero l'ho suggerita io ha lavorato sempre bene. Si tratta di Massimo Santini che è ex consigliere comunale ed ex candidato nella lista città in comune. Era la mente creativa della passata legislatura preseduta dal sindaco Matteo Ricci. Insomma il deux ex macchina di tanti venti in città nonché proprio l'inventore del paglio dei braceri. E fu proprio lui a proporre opera maestra di Stefano Esposto e poi anche un'altra opera si chiama Stella Polare. Ebbene queste due opere sono al centro di questa intervista che viene realizzata anche per quanto riguarda poi i finanziamenti che sono stati ottenuti dagli sponsor privati ma anche dall'amministrazione comunale. E poi abbiamo la presa di posizione di un capo Contrada. Si tratta di Alessandro Vetri, ex capo Contrada di Centromare. Si tratta sempre del paglio dei braceri. Ebbene da ex capo Contrada Vetri dice, dico che l'organizzazione ha snaturato questo paglio. Girano troppi soldi intorno a questa iniziativa per i quali non arriva nemmeno una bricciola invece alle Contrade. ecco loro che fanno veramente spettacolo per quanto riguarda questo paglio. Ebbene qui insomma la polemica corre. Poi passiamo a Fano e vediamo il disastro che si è verificato ieri in via Brigata Messina nei pressi di Centinerola. Si rompe la condotta, strada allagata e disagi. Il guasto è avvenuto la notte scorsa, erano le prime luci dell'alba. A un certo punto si è rotto l'acquedotto sulla via. L'acqua è gurgitata proprio con turbolenza dalle fogne e sorta in maniera impetuosa dalle fogne che invece di digerire l'acqua, invece di appunto accogliere l'acqua, l'ha ributtata fuori. E l'acqua come un fiume corsa lungo la strada è invaso anche gli scantinati, le cantine, i semi interrati delle abitazioni, provocando molti molti danni. Il guasto è avvenuto verso le 5 della mattina. Sul posto ci sono ricati sia i vigili del fuoco che con le loro pompe poi hanno tirato fuori l'acqua dai semi interrati e poi gli addetti di Aset che hanno scavato una grande buca con una pala meccanica fino a raggiungere il luogo del guasto. Quindi hanno poi riparato la tubazione sostituendola. Hanno lavorato mezza giornata, ieri era anche domenica, ma alla fine il guasto è stato riparato e l'acqua è stata ridata alle abitazioni a cui era stata tolta. Ci sono stati anche due importanti incidenti stradali tra sabato e domenica, un doppio incidente. L'altra notte un giovane motociclista è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Pesaro. L'incidente si è verificato nell'incrocio tra via Rossini e via Pergolesi. Erano intorno le 20, le 20 di sera. Ebbene lì è questione di stop, probabilmente qualcuno non ha osservato le norme del codice della strada. Fatto sta che un autocarro condotto da un anconetano di 54 anni si è scontrato con un motociclista di 32, il quale cadendo ha sbattuto contro un'auto in sosta. Quindi le sue condizioni erano piuttosto gravi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Qualche ore più tardi un altro incidente si è verificato, questa volta in via del fiume. Protagonista è stato un 62enne che ha fatto tutto da solo, ha perso il controllo del mezzo, è andato a sbattere contro un'auto in sosta vicino a una casa e questa per l'urto, per il rimbalzo, è andata a scontrarsi a sua volta con un'altra auto che era in sosta. Quindi doppi danni per questo incidente. Nella carambola il 62enne si ribaltava col suo mezzo percorrendo diversi metri di strada con la fiancata a sinistra. Quindi questa macchina ribaltata e poi è stato a soccorso. Subito i residenti, al fracasso, si sono accorti di quello che era accaduto, hanno chiamato i soccorsi e l'uomo è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Santa Croce, all'ospedale di Fano, appunto al pronto soccorso. Questo per quanto riguarda le notizie pubblicate oggi dal resto del Perlino. Allora apriamo il Corriere Adriatico, vediamo la pagina di Fano, dove l'apertura è dedicata appunto al danno che si è verificato in via Brigata Messina, dove ci sono anche delle foto piuttosto significative. Vedete qui la strada, che non è più una strada, ma è un torrente pieno d'acqua melmosa, acqua che è penetrata dalle cancellate nei semi interrati, negli scantinati delle residenze. Ebbene la seccità fa saltare l'acquedotto, probabilmente questa è una causa, la lunga permanenza di assenza di piogge fa sì che ci siano adesso movimenti sotto la superficie del terreno, movimenti che possono influire anche sulla stabilità delle tubazioni, le quali appunto possono rompersi, come è accaduto ieri in via Brigata Messina. Il guasto alle 5 sveglia i residenti, garage allagati, il terreno arido si ritira e favorisce le rotture. Comunque i soccorsi sono arrivati molto molto presto e dobbiamo essere grati agli operai che proprio ieri, domenica, ma sotto il sole era caldo, ugualmente ad alte temperature, hanno lavorato tutta la mattinata e alle 13 insomma il guasto era stato riparato e la strada addirittura ripulita. Quindi bisogna dare una nota di merito a coloro che hanno lavorato intensamente per riparare questo danno. Ma abbiamo poi la fotografia di uno dei residenti che ha subito dei gravi danni perché l'acqua è entrata nel suo scantinato che li usava anche come laboratorio, fallo in bianchino, quindi aveva i suoi attrezzi, i suoi vernici, tutto quanto danneggiato, tutto quanto da buttare e quindi ha subito veramente molti danni. E ora chi paga questi danni? E' il punto interrogativo che appunto pone Scepetin Taffa, questo è il nome di uno dei residenti. La seconda pagina invece è dedicata ad un problema che si è fatto ancora più acuito, possiamo dire, in seguito all'incidente che si è verificato nei giorni scorsi sulla statale adriatica Traffano e Pesaro, dove purtroppo ha perso la vita un uomo di 51 anni. Si tratta di Alberto Fiorani, un ingegnere. Era in sella alla sua moto insieme a suo figlio di 18 anni sul sedile posteriore. E' andato a sbattere contro una panda che stava voltando verso un parcheggio. Purtroppo l'incidente è stato mortale poco dopo la caduta. Si è caduto proprio in un fosso, in una maniera letale. Lui è deceduto poche ore dopo all'ospedale di Torrette di Ancona. Ebbene, a causa di questo incidente, la statale è stata chiusa per oltre un'ora. Si è creata una lunga fila sia verso Fano che verso Pesaro. E quando capitano queste cose, non ci sono alternative, a meno che non entrare in autostrada oppure salire inerpicandosi per le colline verso Ronco-San Baccio. Comunque non è una situazione agevole. E in questo caso la Giunta deve accelerare i tempi per trovare un'alternativa, per realizzare veramente un'altra strada che unisca Fano con Pesaro. Se non si vuole realizzare il completamento dell'interquartieri, come appunto la Giunta ha scartato completamente queste ipotesi, bisogna però trovare un'altra alternativa, individuare un altro percorso, scusate, fare un progetto e in base a questo poi cercare i finanziamenti. Cinque anni non sono molti. Bisogna quindi partire subito per, almeno alla fine della tornata amministrativa, realizzare quest'opera tanto necessaria e tanto attesa dai cittadini fanesi. Vediamo anche qui, poi, qui abbiamo la foto dell'assessore Gianluca Ilari che lascia delle dichiarazioni a questo proposito. Dice ancora, non so quale scelta faremo. Una scelta che poi dipende anche da quello che ci suggeriscono i tecnici e quindi poi noi vedremo di attuare questa grande opera che veramente è molto attesa. Scontro motociclista grave sono i due incidenti che sono verificati, di cui vi ho parlato prima. Vediamo anche la Val Cesano. 50 ragazzi in campo contro il degrado della città. Sono 50 ragazzi che partecipano al progetto. Ci sto a fare fatica. È un'iniziativa regionale che ha coinvolto tanti comuni e molti ragazzi che si sono impegnati, così per un piccolo compenso, a contribuire a realizzare opere pubbliche. I comuni di San Lorenzo in campo, Pergola, Mondavio, Mondolfo e Monteporzio hanno aderito anche quest'anno a questo interessante progetto che valorizza il volontariato. Per esempio nel centro laurentino, a San Lorenzo in campo, è stata interessata la zona scolastica di Via Nenni che si è arricchita di un nuovo murales molto molto bello. Dopo il murale, alla scuola secondaria di primo grado, quest'anno si è deciso di abilire l'ingresso dell'asilo nido Peter Pan, un lavoro realizzato seguendo le indicazioni e suggerimenti di un bravo artista locale, Gianfranco Parroni. E poi una seconda squadra di ragazzi si è occupata della manutenzione di alcune staccionate in legno nella zona del parco giochi di Via Molino e così via dicendo. Insomma, ragazzi che si sono impegnati, stanno insieme, si divertono e fanno delle opere importanti per quanto riguarda la pubblica utilità. Vediamo la pagina di Senigallia. Si parla del Gemburi, partono gli allestimenti ma salta la convenzione triennale. Ebbene questa Kermesse, che è la Kermesse leader di Senigallia, partirà il 27 luglio e durerà fino al 4 agosto. Sono partiti gli allestimenti di questa 24esima edizione e il Comune comincia a prendere le prime iniziative. Una delle prime è un'ordinanza. Un'ordinanza che fa divieto di usare il vetro, le lattine e superalcolici per motivi di sicurezza in una zona compresa tra i porti circolani, Viale Bonopera, Viale Leopardi, Via delle Caserme e Via Cavallotti dalle 17 alle 3 del giorno seguente. Ebbene poi si parla dell'aspetto economico del Gemburi, che richiede soldi, richiede una convenzione, insomma tutto un aspetto burocratico che viene evidenziato dai giornali. Vediamo anche le pagine di Pesaro pubblicate dal Corriere Adriatico. Si parla di turismo, sui servizi un patto a costo zero. Tra Pesaro e Gabicce va sfruttata la potenzialità del milione e 200 mila visitatori che gravita su due centri, dal brand, la riviera del San Bartolo, alla nuova navetta gratuita. Ci sono tante proposte al vaglio che così perseguono l'obiettivo di far muovere gli ospiti sul territorio contando appunto anche sugli IAT, questi presidi informativi di grande importanza, e sugli operatori. Poi vediamo la pagina che riguarda un evento straordinario. Un matrimonio di cui si è parlato tanto, quello tra Bagnaia e Domizia. La notte piccola, a Villa Imperiale, la festa è non stop. Già la cornice di Villa Imperiale è bellissima per un matrimonio, e questo è un matrimonio speciale con due protagonisti della nostra attualità. Vediamo qui delle foto. Innanzitutto guardiamo l'abito da sposa appunto di Domizia, un abito un po' particolare con uno spacco laterale. Ovviamente siamo in estate, è molto caldo, quindi anche questo subentra un po' alla situazione incombente, ecco, quella che abbiamo al giorno d'oggi. Ma guardate anche quest'abito lungo, come si trasforma, insomma, poi qui una specie di ballo dove i protagonisti, dove gli sposi sono stati appunto al centro dell'attenzione, con questa grande torta enorme per tutti gli invitati. Ebbene, chi vuole leggere questo articolo un po' si divertirà con un po' di gossip. E poi guardate com'era il menù del pranzo di nozze, un menù veramente eccezionale, fatto da uno chef, si tratta di Massimo Bottura, uno chef stellato. Allora, il menù era composto da baccalà pil pil, diciamo un pranzo di nozze, baccalà pil pil, una rivisitazione del piatto tipico delle province basche, servito con gelatina di cotechino, baccalà fumicato e sfoglia di porro bruciato, i tortellini in crema di reggiano stagionato, 36 mesi, e le originali short ribs, costine di maiale cucinate 18 ore con salsa a base di aceto di rose, petali dolci, firma appunto dello chef, un'infusione di profumo dalle rose della campagna emiliana. Ebbene, mangiare queste cose è un sogno, come un sogno è stato il matrimonio tra Pecco e Domizia. E con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa, dandovi appuntamento come sempre a domani alle 7. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.